io vi ho iniziato il video metti anche quello metti 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 ma non ce l'hai lo stabilizzatore stabilizziamo un po dovrebbe essere stabilizzato non so cosa uscirà fuori su youtube su quale canale noi abbiamo un obiettivo guarda guarda si può dire che simone è una ragazza senza vizi aspetta aspetta ti do il cellulare che giochi su poker vuoi giocare su aspetta aspetta che c'ho il poker online vuoi giocare una ragazza senza vizi forse c'è ancora qualche video tanto non è geloso ragazzo non lo so cosa stanno facendo non lo so cosa stanno facendo fai un sorriso ah sono lì ciao come ti chiami? sono mario tu come ti chiami? un saluto torino uno stornello ce lo fai? uno stornello aspetta facci uno stornello uno stornello sei di me piano hai un pezzo di torta sano che sta morendo di pane quale pare il buono alla colomba? un caldo guarda guarda la sua blanca mamma il tuo tempo guarda guarda mi sto riprendendo un muro si ma vieni che hai fatto un giubito qua vai vieni qua grazie guarda vai è buoni è svegli è svegli Sì, sì, sì Rippo Buon Pasqua Buon Pasqua Vamos a la playa La bomba è a Saigon La bomba è a Saigon Signorite Perrito 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 Salute Tacca ringhio Tacca ringhio Pico caffè Un ottimo caffè Quanto è bello un caffè Solo una carcerosa Caricetta da Ciciri Mella compagnia di Cella ci ha fatto mamma Parapapapà Allora ci sei? Non fa il quinto di esserci Simo Salute a todos Hola Cic Hola Cic Sfutala Scusanto Dimmi vuoi cazzo? Sì grazie Noi siamo troppo Tecno Enologici Tecno Enologici Praticamente studiamo Come bere decrepista Si AGuant'è caldo il caffè Luca Che sulle tette olve hanno un caffè non è te, è caffè questo è un video selfie strano che Saro mangia le colombe perché di solito lui volateli non li mangia li prende infatti è una caccia di colombi no di uccelli anche laggiù quelli laggiù e prendono gli uccelli ma veramente no che è la plastica poi si brucia poi ci denunciano è stato Saro, Sarino Barone e facciamone una bella multa perché quei duemila euro che l'ha fatto una volta non ne sono bastanti per delle alette di follo duemila euro non le è andato giù allora voleva bruciare un po' di inquiniamo sto cazzo di mondo questo è un videotestamento praticamente tra centocinquant'anni quando moriremo tutti vedrete questo video forse forse se non ci sarà il 14k troppo stupido perché perché io praticamente oggi sono risuscitato ciao